La cosa più simpatica è che le persone ci guardavano e cercavano di definire il sesso biologico di entrambe. E' sempre una questione di sguardi, di paroline, di commenti, di vocine, di persone che poi magari interpellate non hanno il coraggio di esprimere neanche le loro perplessità. Chiaramente da un dibattito, da un attacco pubblico esplicito potrebbe venire fuori qualcosa. E' una questione di ignoranza, una questione di profonda non conoscenza. Se queste persone che mi devono guardare male mi venissero a parlare scoprirebbero molto di più. Io sono dichiarata da più o meno poco, da cinque anni, e mi sono dichiarata con la mia ragazza. Quindi con la mia ragazza dell'epoca, adesso non siamo più insieme, però è stata fondamentale per questo processo. Che è importantissimo, quindi io invito comunque tutti a fare questo processo di dichiarazione, anche quindi di pubblica conoscenza di sé. Mi piace questa espressione, nel senso io mi conosco, però voglio anche che mi conoscano gli altri e che quindi ci sia correttezza, anche a livello proprio di onestà personale. Che intendi per processo di dichiarazione? Intendo di svelarsi in qualità di omosessuale, in qualità di bisessuale, anche semplicemente ammettere di essere transessuali, per esempio, che non è poi così scontato. E la società ha profondo bisogno di persone che diano un esempio a delle altre che quindi facciano da portavoce anche di un insieme di dolori che noi, in quanto stigmatizzati dalla storia dell'umanità, portiamo dietro. E quindi se io, anche raccontando a voi le mie esperienze con la discriminazione, che poi magari anche essendo sottili e non palesi, non esplicite ci sono e che fanno male, posso dare una mano a chi si sente come me. E questo mi fa molto piacere, quindi ti ringrazio per questa intervista. Quindi, più nello specifico, fatta questa premessa, appunto cose eclatanti non ne ho avute. Però sono gli sguardi della gente, per esempio, che fanno male, che si rendono, comunque, mi fanno sentire al centro di un'attenzione che non è corretta, che non è giusta. E quindi la mia ragazza era di Roma, è di Roma, quindi diciamo che ci siamo manifestate come due persone che si amano dovrebbero poter fare a Roma, meno che qui, all'Aquila. E quindi già a Roma abbiamo avuto modo di capire che l'ignoranza della gente è veramente grande, veramente tanta. Quindi sguardi, interrogativi, addirittura la cosa più simpatica è che le persone ci guardavano e cercavano di definire il sesso biologico di entrambe. Una volta appurato che fossimo donne, quindi c'era il processo occhi, un po' più giù degli occhi, due donne, quindi evidenti domande, con sguardi come se si stesse osservando un fenomeno da baraccone e non è così. E questo è piuttosto doloroso. Poi ci è capitato per esempio a Roma sempre che ci dividessero. Noi camminavamo mano nella mano, delle ragazze si sono intromesse tra me e lei e ci hanno divisi, ci hanno separate. Quindi a parte sguardi, a parte magari qualche frecciatina, come dire, passiamo al Colosseo, bacio, 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 queste cose, a parte queste cose, grossi episodi, io non ne ho avuti pubblicamente. Poi per esempio all'Aquila il discorso diventa già diverso, anche se non poi così tanto, nel senso che è sempre una questione di sguardi, di paroline, di commenti, di vocine, di persone che poi magari interpellate non hanno il coraggio di esprimere neanche le loro perplessità. Chiaramente da un dibattito, da un attacco pubblico esplicito potrebbe venire fuori qualcosa. È una questione di ignoranza, è una questione di profonda non conoscenza. Per cui, scusami, se queste persone che mi devono guardare male mi venissero a parlare scoprirebbero molto di più. Cosa potrebbero scoprire, ad esempio, anche in fatto di fragilità, che non sempre arrivano? Potrebbero scoprire che innanzitutto non c'è niente di strano nell'omosessualità, e che quindi come si può parlare con me di letteratura o di cinema, si può parlare con un eterosessuale. Anzi, forse c'è una delicatezza in più, io questo tendo a ribadirlo appena posso. E potrebbero scoprire che fanno molto male all'altra persona con questo loro atteggiamento. Quindi magari se se lo sentissero dire, guarda mi stai provocando dolore, non è corretto quello che tu mi stai facendo, perché io non ti faccio niente di male, io non ti chiedo quando ti sei dichiarato, come vivi la tua condizione di eterosessuale, io non lo chiedo. Perché non dovrebbe essere naturale chiederlo, non è normale, quindi non dovrebbe stare nella norma statistica andare a chiedere perché di una propria regolarità. Mi sei mai sentita diversa, a disagio per questo? Non mi sono mai sentita a disagio per la mia omosessualità, mi sono sentita a disagio per il mio non essere stata in grado per molti anni di dichiarare la mia omosessualità. Io sto bene con me stessa, sono sempre stata bene con me stessa, avevo paura di ammettere pubblicamente di essere omosessuale. Adesso che l'ho fatto sto molto meglio, lo dico per tutti quelli che non hanno il coraggio ancora di fare un'azione corretta nei propri confronti. Fatelo, fatelo come l'ho fatto io, come l'hanno fatto tantissimi, più siamo, più il messaggio diventa forte, più facciamo capire a chi non ne vuole sapere che non è così grave. Tu quando hai capito che ti piacevano le donne? Ero piccina, guardavo la televisione e mi sentivo più attratta dalle donne che dagli uomini. Poi certo, chiaramente l'attrazione dei bambini di 10-12 anni non è chiaramente l'attrazione di un ventenne, però mi sentivo indirizzata più verso le ragazze che verso i ragazzi. Poi ho avuto schiere di fidanzatini perché, non lo so, ho rimorchiato sempre tantissimo, lo termine becero rimorchiare, giocavo a calcio quindi avevo dei motivi per avvicinarmi ai maschietti, però mi sono sempre piaciute le ragazze, questo è sempre stato innegabile. Poi a un certo punto l'ho capito, l'ho accettato e l'ho detto. Sono stata molto meglio. E l'hai detto anche ai tuoi familiari, come hai vissuto con loro questa dichiarazione, come la chiami tu? Allora io vengo da una famiglia, dunque la mia famiglia, quella che poi tutti definiamo famiglia, il nucleo familiare con il quale viviamo, composta da mia madre e mia nonna. Però io mi sono dichiarata nel periodo del terremoto, quindi stavamo a casa di mia zia a Roma, famiglia cattolica, totalmente cattolica. Allora io mi ero appena fidanzata e quindi volevo comunque presentare la mia ragazza a casa. La prima a cui l'ho detto è stata mia nonna, alla quale ho detto nonna senti ma tu come la prenderesti se io ti presentassi la mia fidanzata e non il mio fidanzato? E' un momento di disagio di mia nonna che mi risponde e vabbè nonni, basta che mangiate tutti e due. Basta che mangiate tutti e due, insomma questa era l'unica cosa che le importava. Quindi non ha dato, probabilmente non ha capito, che poi appartiene comunque ad un'epoca in cui non era facile neanche confrontarsi con l'omosessualità e con gli omosessuali. Poi l'ho detto a mia mamma. A mia mamma ho pensato di presentare la mia ragazza, quindi l'ho portata a casa, ho detto mamma senti, avendo terrore della sua reazione, ho detto mamma lei è la mia ragazza. All'inizio non è stato facile, non ha molto capito, perché poi si tende a dover capire. Io non capisco cosa ci sia da capire. Cioè la persona, davanti a te c'è la persona che io amo, che cosa devi capire? E' il mio amore e basta che sia diretto verso una donna o verso un uomo, a te cosa può cambiare. Poi piano piano lei l'ha accettato e ha capito che non c'è niente di male, che io non ho dei problemi. Ha fatto per lungo tempo delle battute. Eh, quello è un bel ragazzo, ti ricordi quando uscivi con Marco? Ma sì, però adesso le cose sono cambiate. Poi le ho dato tempo. Le ho dato tempo di anche metabolizzare, perché poi io mi rendo conto che ancora non è una notizia facile da gestire. Però è bene soffrire, perché poi il dolore che si prova viene ripagato dalla propria felicità. Che cos'è che non capiva tua mamma, secondo te? Mia madre non capiva innanzitutto come facessero a piacermi le donne. Quindi diventava proprio un problema fisico. Come io potessi sentirmi attratta da una donna, lei non lo comprendeva. Cioè, ma io mi sento attratta dagli uomini. Ok, tu ti senti attratta dagli uomini, io mi sento attratta dalle donne. E poi aveva paura delle ripercussioni sulla società, di questa mia posizione, diciamo anche di scelta poi di esternalizzare i miei sentimenti. E quindi aveva paura appunto delle conseguenze. Ma all'università cosa ti diranno? All'università che mi dicono, quando ho avuto il coraggio di dirlo alla mia relatrice, perché poi sai, si pensa sempre, vabbè, allora anch'io evito di dirlo, perché magari posso essere penalizzata per il tirocinio, invece voglio fare questo tirocinio. Quando l'ho detto alla mia relatrice, la mia relatrice è stata stupenda, è stata contentissima, e abbiamo potuto lavorare anche sull'omosessualità con il progetto di tesi, che è stato molto bello, è stato molto gratificante. Aveva appunto, sì, la più grande paura, quella delle conseguenze su... le ripercussioni di me di questa decisione di dichiarazione, perché poi, giustamente, come molti pensano, a casa tua puoi fare quello che vuoi, fuori magari fatti i cavoli tuoi, perché potresti avere dei problemi. Non è così. Non è così. Se io comincio a non farmi problemi, dei miei amici cominciano a non farsi problemi, chi ci ascolta comincia a non farsi problemi, non ci saranno più problemi, piano piano. È un percorso lungo, ma dobbiamo prenderci i nostri diritti, che sono diritti all'amore. Niente di più. Cosa hai trovato anche nell'amicizia, visto che hai nominato alcuni amici? Ho trovato molta tranquillità, molta serenità, molta comprensione. Avevo paura, anche qui, purtroppo, di dirlo anche alle mie amiche, ai miei amici più stretti, i quali però, volendomi bene, innanzitutto mi hanno detto guarda che noi lo sapevamo benissimo, da molto prima di te, quindi che problema ti stai facendo. Però qual è il problema? Non c'è problema. Cosa ci stai dicendo? Non hai ucciso nessuno? Non stai male? Che dovremmo dirti? Cosa c'è di strano? Va benissimo. Sei fidanzata? Facci conoscere questa persona. Sarà sicuramente all'altezza se sta con te. Mi sono sentita molto bene, è stato molto bello. Patrizia, cosa ti ha dato invece la psicologia? Ti ha aiutato anche a confrontarti con te stessa, ad avere il coraggio di dichiararti come dici tu e di dire a tutto il mondo che tu ami chi vuoi? La psicologia mi ha dato tanto, quindi io consiglio a tutti di leggere testi di psicologia. La psicologia non è Freud e basta, perché se leggete Freud vi spaventate, quindi andate oltre. Leggete Jung per esempio, anche lui non è il massimo sulla tematica della omosessualità, però ci sono veramente tanti che fanno stare molto meglio, ecco, danno risposte. Io cercavo risposte dalla psicologia, io speravo che mi aiutasse nel mio percorso di individuazione, nella mia conoscenza di me e anche così nel togliere all'omosessualità questa etichetta di perversione, se posso usare il termine perversione. Il manuale statistico dei disturbi mentali, il DSM, nel 1973, 74, elimina la patologizzazione dell'omosessualità. Quindi 40 anni fa, finalmente, l'omosessualità non è stata più considerata dagli psichiatri, quindi da chi è competente come una malattia. Il problema è che sono solo 40 anni fa, e questo è grave. È grave nel senso che purtroppo bisogna fare ancora molto, molto di più. La psicologia ci dice non solo che non è una malattia, che non c'è niente di strano, ci dice che l'amore è amore, e quindi l'omosessualità è un orientamento sessuale alternativo, quindi è altro rispetto all'eterosessualità, ma è un altro orientamento sessuale. Non è perversione? Non è assolutamente perversione. È stata sdoganata questa idea, questo pregiudizio stupido, cattivo. Bieco è stato fortunatamente eliminato. Il problema è capirlo, perché poi non tutti vanno a leggere le ricerche scientifiche con competenza, e quindi anche che uno psichiatra, uno psicologo venga a dire no, non è una malattia, non è così facile da capire, da accettare, da interiorizzare. Io appunto consiglio di leggere, di informarsi, di capire, fa bene a tutti, fa bene alla cultura. L'omofobia è ignoranza, è assenza di cultura. La cultura muove il mondo, io lo dico sempre, quando posso, che appunto leggere, vedere film, andare a teatro, fa bene. Ecco, Patrizia, nel dibattito politico-sociale internazionale, si parla sempre di omosessualità, sempre più spesso e per fortuna, ma soprattutto in ambito maschile. Perché secondo te? Dunque, l'omosessualità femminile ha questa sorta di alore di mistero attorno a sé, per la quale, non essendo facilmente individuabile, come l'omosessualità maschile, da un punto di vista proprio visivo, viene considerata meno. Quindi, se l'omosessualità maschile è osteggiata apertamente, spesso l'omosessualità femminile viene trattata con sola ed esclusiva indifferenza. Perché l'omosessualità femminile è soltanto quella della ragazza col capello corto, molto maschile, con la cannottiera. Non è così. Non è così. Così come l'omosessuale maschio non è soltanto l'effemminato. Assolutamente, anche qui. C'è anche l'effemminato, certo, ma siamo liberi tutti di portare la converse e non la cravatta. Quindi perché non possiamo essere liberi di indossare un paio di pantaloni rosa se siamo maschi o di avere il capello corto se siamo donne. Io continuo a non capire e chiedo a chi invece ci avversa perché la pensino così. Non mi sanno rispondere. Ovviamente non mi sanno rispondere. Allora, l'omosessualità femminile ha la stessa storia, la stessa, come dire, la stessa correttezza morale dell'omosessualità maschile. È soltanto meno nota. Io direi che si può fare molto per conoscere l'omosessualità femminile. Il Pozzo della solitudine è un libro che è stato scritto nell'Ottocento da Radcliffe Hall. Margaret, che si faceva chiamare John, che è un'autrice donna, che ha fatto scandalo come Oscar Wilde all'epoca, ma è rimasta adesso così, è scesa nel dimenticatoio e nell'ignoranza appunto, un po' perché anche la letteratura e la cultura in generale è legata, è censurata, sì, quella delle donne è sicuramente meno conosciuta. Ed è un libro che non si trova facilmente. Io vi consiglio di leggerlo, è un ottimo romanzo per fare un esempio, è soltanto per fare un esempio. Nella musica, si può scendere nella musica, c'è anche molto così. C'è una canzone dell'ultimo album di Carmen Consoli che è sull'omosessualità femminile Ottobre, bellissima, ascoltatela. Piuttosto che in lingua avrei scelto l'inferno fosse stato il prezzo della libertà che il paradiso poteva anche apprendere fosse stato il prezzo della libertà lasciare tutto contentarsi di niente già in questa realtà pensé che esiste Riaprirà Patrizia, riguardo la maternità qual è il tuo desiderio? Come vivrai, se vivrai questa esperienza e che desideri hai? Io ho un grandissimo senso di maternità e questa è una cosa che sconvolge sempre quando la dico. Perché? Sono una donna che può e può non avere il senso della maternità. Io voglio avere un bambino quindi voglio portare in grembo un bambino. Voglio i nove mesi di nause o quelli che sono. Sembra strano. Questo sembra strano perché una donna omosessuale secondo i più non può desiderare un bambino. O meglio, magari può desiderare di adottarlo perché è già fatto il pacco è pronto ma l'idea della gestazione stride con quella dell'immaginario comune a riguardo. Anche questa è una cosa che mi turba e non capisco perché possa pensarsi. Io spero di avere tutte le carte in regola da un punto di vista fisico per poter avere un bambino qualsiasi sia la strategia poi pratica per averlo nel senso se si tratterà di inseminazione artificiale ben venga l'inseminazione artificiale. Io vorrei che la natura biologica in questo senso prevalesse e quindi vorrei fare un bambino con un uomo perché poi è quella, no? Anche questo è un aspetto che non si capisce sul quale io vorrei fare attenzione ed è un punto sul quale poi mi si attacca quando c'è gente che non la pensa come me e che viene ad avere dei dibattiti con me e quindi in questo senso poi c'è uno scambio interessante invito anche chi non lo fa a farlo e mi si dice ma se la biologia vuole che la riproduzione avvenga tramite lo spermatozoo e la cellula uovo non è innaturale l'omosessualità? Non è innaturale l'omosessualità. A me dispiace che due donne non possano per natura riprodursi sarebbe molto bello che mio figlio potesse avere i geni a metà tra me e la mia compagna. Purtroppo non è così non è meno naturale però i bambini vengono cresciuti da donne da uomini da una nonna da una zia da un fratello dalla notte dei tempi quindi qual è il problema degli omofobi a riguardo anche questa volta gli omofobi me lo devono venire a spiegare l'utero ce l'ho anch'io come ce l'ha una donna eterosessuale utero sessuale quindi io avrò un bambino con la mia compagna come una qualsiasi donna della storia dell'umanità e lo crescerò benissimo lo crescerò benissimo perché sarà amato sarà amato vivrà in mezzo agli stimoli culturali di tutti i tipi e quindi sarà un bambino che crescerà felice poi ci vedremo magari quando avrà 20 anni e chiederemo a lui o a lei come sta noi te lo auguriamo veramente di cuore Patrizia grazie grazie mille grazie mille grazie a tutti grazie a tutti Sous-titrage Société Radio-Canada